Saluto a tutti i lettori di tuttandolari.net Saluta Michael Ciao Siamo appena usciti dall'Unpacked 2014, episodio 2 di Samsung Eccolo qui, solo lui perché io ho perso il pass Da bravo, intelligentone quale sono Non è il Note 4 come potrebbero immaginare Sono un paio di cuffie, ovviamente Samsung va scendendo, dai cogliani Comunque, interessantissimo il Note 4 Gran bel dispositivo Un po' meno il Galaxy Note Edge O meglio, non so quanto possa avere senso Però, vabbè Confermo, il Note 4 secondo me non ha nemmeno meravigliato poi tanto No, vabbè, però come materiali c'è stato un passo Un passo in più Poi diciamo un perfezionamento dal punto di vista software Ecco, vediamo di non farci buttare sotto dal signore Ok, perfetto Il RS è fighissimo, no? Vabbè, è un mini smartphone Cioè, manco tanto mini È uno smartphone, come dicevo a Francesco Sì, a Francesco Graziani È carissimo È uno smartphone supporto Può chiamare, può fare tantissime cose Però anche lì non è molto comodo Non so quanto possa essere utile Poi magari quando lo aprimo in test vedremo meglio Per il momento abbiamo finito con gli eventi almeno per oggi O meglio Però con Samsung e Matteo e Riccardo erano da Sony Da Sony e dovrebbero andare da Acerfer a fare video video in zone A vedere un botto di roba Z3, 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 Z3 tablet Molta più roba di Samsung Anche perché qui ci doveva essere il Gear VR Ma non l'abbiamo visto con oltre agli altri dispositivi Insomma, andiamo a casa a caricare, montare e lavorare per tutto il giorno E vi ricordo stasera c'è l'appuntamento con Langout Per parlare degli eventi del giorno alle ore 21 e 30 Prima mangiamo però Prima mangiamo perché praticamente io ho mangiato metà panino Mica non ha mangiato Tu hai mangiato qualcosa Sì, vabbè, il buonissimo panino di Atos Vi saluto, per il momento è tutto Da Emanuele e Michele Bye bye Per tutto Android.net